In arrivo una perturbazione dal Golfo del Leone nelle prime ore fino al pomeriggio di domani, venerdì 2. Il bollettino di allerta emesso dalla protezione civile prevede su tutta la Sardegna venti occidentali con intensità forte che localmente arriverà fino a Burrasca sulle coste settentrionali. Le rafiche potranno raggiungere intensità di Burrasca forte con punte fino a 70 km all'ora, venti che porteranno un aumento della nuvolosità fino a possibili piogge. I mari settentrionali e occidentali si prevedono agittati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature che fin da oggi hanno avuto un aumento si aggireranno tra i 14-16 gradi le massime sulle coste e 9-13 sui rilievi, mentre le minime tra gli 8 e i 14 gradi.